Un'altra, l'ennesima prova di maturità, un altro piccolo ma significativo passo in avanti verso la conquista della quota salvezza nel campionato di Serie D. Il Biceglie strappa un punto prezioso anche a fondi, ci riesce in rimonta la formazione allenata da Claudio De Luca al cospetto di una delle squadre più quotate dell'otto in piena corsa per un piazzamento play-off. E il quarto, risultato utile consecutivo per i nerazzurro stellati che non si fanno intimorire e condizionare psicologicamente dal vantaggio lampo dei laziali, a segno già dopo quattro minuti con Oman. Ed infatti intorno alla mezz'ora arriva puntuale il pareggio con questo colpo di testa di Lorusso, già decisivo sette giorni prima, nel vittorioso derby giocato al Ventura con il Manfredonia. Diventano così 38 i punti del Biceglie in classifica, domenica prossima ancora in trasferta contro il Picerno sarà già primo match point salvezza. Uno, anzi tre passi in avanti verso la conquista della permanenza senza passare dai play-out gli ha compiuti il Manfredonia, battendo al Miramare il fanalino di Coda Gallipoli con un gol di Derita prima del riposo. Distanze invariate dopo gli incontri della 26esima giornata invece tra le prime tre della classe. La capolista Virtus Francavilla, che tra quattro giorni ospiterà proprio i Sipontini, espugna Francavilla insieme con questo gol di Picci in apertura di ripresa e conserva due punti di vantaggio sulla principale antagonista, il Nardò, che fa il proprio dovere in casa contro il modesto Aprilia. Resta a meno 4 dalla vette il Taranto, a cui basta e avanza la rete di Genchi a metà della ripresa per avere ragione allo Iacovone della Turris. E domenica prossima c'è la sfida tra la seconda e la terza forza del girone H, Nardò contro Taranto. Sconfitta esterna infine per il San Severo a potenza che complica un po' i piani salvezza dei foggiani.